Io parlo del profilo politico, a prescita dalle indagini in questo caso. Noi abbiamo, tra l'altro, questa denuncia politica istituzionale è stata fatta dal centrodestra, come sapete, da un consigliere regionale del centrodestra, già credo più di tre anni fa. 2017. 2017-2018, sono passati tre anni. E il modello del clan di Luca, a prescita dalle vicende giudiziarie. Il clan di Luca favorisce solo gli amici. Poi, rispettando la legge, non rispettando la legge, questo lo decide la magistratura. Per noi è una denuncia politica enorme. I suoi autisti possono essere aiutati e privilegiati. La sua famiglia deve essere aiutata e privilegiata. I figli, tutta la famiglia allargata. Il suo segretario particolare, capo segreteria, diventa sindaco di Salerno. Come vedete, è il clan che favorisce, a prescindere se si viola o non si viola la legge, solo i suoi amici.